Pronti? Siete pronti? No perché di fronte all'atto è dura No vai, devi andare secco Sì se c'è ragione tu hai buttato la vicina Partito Democratico Allora siamo qua No ma ci stanno pure le donne Ma come dai Ma aspetta Angelo, Angelo No no Allora la domanda è Ma di che cazzo state parlando? Devi entrare in riunione Buonasera Scusate ma di che cazzo state parlando? Un riunione è partito democratico Ora te lo entra e dice Guarda quella signora come ansiosa Lanciamo la cosa Entra Se riceviamo 100 retweet lo facciamo? Sei d'accordo? È tosta Cioè io mi sono buttato 7 metri e mezzo Lo sai no jump Dicevo cazzo è tosta Ma questa è durissima È dura è dura Ragazzi è tosta Allora Allora sei pronto? vabbè lo devo fare vai mi stavo chiedendo ma di che cazzo state parlando? ecco questa è una scommessa scusate ho pagato un tasso scusate una zingarata una zingarata